Cari amiche e cari amici, autorità, un saluto a nome del sindacato CISL provinciale di Brescia. Grazie dell'accoglienza che avete riservato a tutti noi, della nostra organizzazione sindacale e dell'invito a vivere con voi questo momento così significativo per la vostra associazione. E' bello essere qui insieme. Apro questo mio intervento con il pensiero rivolto all'Ucraina. Alla sua popolazione che sta vivendo mesi di dolore e di angoscia a causa della guerra scatenata dalla Russia. Occorre che la diplomazia metta a tacere le armi e sappia realizzare percorsi di pace. Lo stesso pensiero va anche alle molte guerre civili e fratricide che ci sono nel mondo, anche nell'Africa. Siamo qui insieme ed è importante che possiamo celebrare questo momento. C'è ragione di essere contenti. Abbiamo bisogno di riconquistare socialità e partecipazione. La pandemia ci ha fatto vivere due anni in un'altalena vertiginosa, dall'impotenza alla paura di non farcela, al sollievo e alla risposta della scienza. La pandemia ci ha ricordato che siamo responsabili gli uni degli altri. Di più, ci ha insegnato che abbiamo bisogno gli uni degli altri. E' un tempo difficile, complicato, carico di incertezze e preoccupazioni. Ma abbiamo insieme la capacità di uscirne. Mi piace parlare in questa grande assemblea per immagini. Un'immagine legata ai gabbiani. Sì, ai gabbiani. Quante volte ho contemplato il volo libero, leggero e coraggioso dei gabbiani. I gabbiani bianchi che planavano solitamente in gruppo, decisi e determinati verso lo specchio del mare. Ecco, questi, prima di ripartire, riprendevano quota per altri voli. Un particolare però affascinante, il gruppo, il gruppo dei gabbiani. Ne arriva uno, poi arriva il secondo, poi arriva il terzo. Lo spirito di gruppo, cioè a loro modo una comunità. E allora come non pensare alla necessità, soprattutto nostra, di essere umani, di fare comunità. Di costruire una rete di solidarietà. Di costruire relazioni, contatti che uniscono popoli e paesi. Abbiamo bisogno di non sentirci soli, di costruire occasioni di incontro come questa. E allora chiudo con un impegno per la CISL ma anche verso la politica. Abbiamo bisogno di serie politiche per l'immigrazione. Abbiamo bisogno di coraggiose politiche per l'immigrazione. La piena cittadinanza di chi è nato e vive da anni in un paese passa anche dal riconoscimento dei diritti politici e di rappresentanza. I nostri figli, i vostri figli, sono figli del mondo. Grazie, grazie a tutti.